Oggi nel processo d'appello per l'omicidio Macchi un penalista ha detto che un suo cliente gli ha confessato di essere l'autore della lettera che rappresenta una delle prove che hanno portato alla condanna di Stefano Binda in primo grado. Un vasto incendio ha devastato stanotte il centro commerciale Coop compreso tra via Palmanova, via Benadir e via Derna a Milano. Le fiamme sono partite dal tetto per cause ancora da accertare, da quantificare i danni ai vari negozi e attività che hanno sede nello stabile. Nelle scuole lombarde mancano 15.000 insegnanti, lo denuncia la CGL precisando che forti carenze si registrano tra gli insegnanti di sostegno. Chiuderà i battenti il 15 settembre la mostra del fotografo cinese Liu Bolin al Mudec di Milano. In vetrina una cinquantina di opere realizzate a Pechino, New York, Londra ma anche in Italia compresi due scatti inediti realizzati nella Galleria Borghese di Roma e al Castello Sforzesco di Milano. Buonasera dal TGN e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario, lo avete sentito dai titoli del sommario. Stamattina durante l'udienza del processo d'appello per l'omicidio Machi un penalista ha detto che un suo cliente gli ha confessato di essere l'autore della lettera che rappresenta una delle prove che hanno portato alla condanna di Stefano Binda in primo grado. Jacopo Casoni. Pier Giorgio Vittorini sentito come teste ha rivelato che un suo cliente gli ha confessato di aver scritto quella missiva. Lo ha fatto perché il segreto gli stava lacerando l'anima, ha detto al legale che però avvalendosi del segreto professionale non ha rivelato l'identità del cliente. La confidenza risale al febbraio del 2017 e l'uomo ha sostenuto di aver scritto quella lettera come forma di protesta per una morte ingiusta. Non conoscevo Lidia Machi ma condividevamo lo stesso contesto di comunione e liberazione a Varese avrebbe detto il cliente a Vittorini. Sarebbe una persona laureata con un alto livello professionale. Secondo la testimonianza del penalista il suo cliente gli avrebbe detto di non essersi mai presentato prima alla polizia perché non è in grado di fornire un alibi per la sera del delitto. In quel periodo ero a Milano, ha detto, ma non riesco proprio a ricordare dove fossi quella sera. Un colpo di scena che scuote nuovamente un caso che per oltre 30 anni ha vissuto di dubbi e misteri fino all'arresto di Binda nel gennaio 2016 e a quella sentenza che pareva averlo chiuso definitivamente, fino ad oggi almeno. Ancora a cronaca, uno funzionario dell'Agentina delle Entrate di Milano è stato messo agli arresti domiciliari per accesso abusivo ai sistemi informatici e corruzione. Il sessantenne, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, passava informazioni riservate della stessa agenzia a tre investigatori privati facendosele pagare. Anche i tre corruttori sono stati arrestati per lo stesso motivo e sono agli arresti domiciliari. Si tratta di un 54enne di Besana in Brianza, un settantenne di Milano e un 43enne di Gabragnate milanese. I finanzieri hanno anche sequestrato 15.000 euro che ritengono sia il guadagno dello stesso funzionario per l'attività illecita. L'input all'indagine è arrivato proprio dall'agenzia che, tramite un audit interno, ha riscontrato che i sistemi erano stati violati e ha quindi informato le forze dell'ordine. Dramma questa mattina nei pressi del boschetto della droga di Rogoredo. Un uomo di 33 anni, cittadino italiano, è stato trovato morto in via Santa Rialdo, a pochi passi dall'ingresso solitamente usato dai tossicodipendenti, per entrare nell'area verde è diventata nel tempo un'enorme piazza di spazio di eroina. L'allarme è scattato dopo le 9 quando il 33enne è stato trovato a terra dalla polizia ferroviaria, che ha poi avvisato il 118. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È verosimile, come lascia pensare la siringa lasciata accanto al suo corpo, che a ucciderlo sia stata una overdose di eroina. La seconda vittima del 2019, lo scorso 7 aprile, un uomo di 50 anni, aveva infatti accusato un malore all'interno del parco ed era morto poco dopo al policlinico di San Donato milanese. Le fiamme si sono sprigionate sul tetto, ma tutta la struttura che ospita la Coop e non solo in via Palmanova è stata danneggiata seriamente. Oggi i negozi chiusi dopo una notte passata a combattere contro il fuoco. Un rogo improvviso partito dal tetto del centro commerciale che ospita la Coop di via Palmanova e altre attività, da Pitta Rosso al Brico, passando per l'OVS e un ambulatorio della Sant'Agostino. Le cause sono ancora da accertare, non ci sono però feriti o intossicati. La paura tra i residenti della zona è stata tanta. Vesso mezzanotte, io abito in via Derna, quindi mi sono affacciata alla finestra della camera e ho visto delle fiamme spigionarsi dal tetto. e con molto fumo nero. E poi dopo un po' sono arrivati i vigili del fuoco. L'intervento è durato ore e stamane, dopo questa notte complicata, la situazione è tornata alla normalità. Almeno apparentemente. Curiosi e dipendenti dei negozi coinvolti hanno assistito alle ultime fasi delle operazioni dei vigili del fuoco ma tutto il centro è rimasto chiuso al pubblico. Dopo il fuoco, infatti, a creare problemi è stata l'acqua, quella usata per spegnere le fiamme ma forse c'è anche una perdita all'impianto idrico danneggiato dal rogo. Spegnendo il fuoco e tutto quanto si sono allagati anche tutti, il primo piano è tutto allagato e la conseguenza dei negozi sottostanti, OVS, Pitalosso e la Coppe, sono tutti allagati, hanno tutte le infiltrazioni dell'acqua. Vi hanno più o meno detto quando potrete riaprire oppure no? Purtroppo non ce l'hanno dato con una certezza. Oggi sicuramente i negozi rimarranno chiusi perché devono capire anche l'agibilità comunque dello stabile quindi oggi o anche domani c'è la possibilità che i negozi rimangano chiusi. Coinvolto dall'infiltrazione anche il garage sotterraneo ma l'allarme è cessato e ora si aspetta l'esito degli accertamenti strutturali e dell'indagine per chiarire cosa abbia causato questo incendio. Ha aggredito il padre di 71 anni, prima calci e pugni, poi cercando di strozzarlo nella loro casa di Barzanò in provincia di Lecco per questo un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cremella prima di essere bloccato ha anche lanciato dei coltelli contro il vicino di casa che era intervenuto per difendere l'anziano. L'uomo si è poi barricato in camera e i militari lo hanno convinto a uscire. Il medico ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio. E' morto Antonino Benfante, il killer dei fratelli Emanuele Pasquale Tattone di Paolo Simone autista a tutto fare di Emanuele uccise a ottobre del 2013 con due esecuzioni a distanza di 72 ore per motivi legati allo spaccio di droga nel quartiere. Benfante, 55 anni, di origini siciliane, era stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni pena resa definitiva dalla Cassazione ad aprire dell'anno scorso. Da allora più volte aveva manifestato segni di insofferenza dietro le sbarre del carcere di Vigevano dove si trovava rinchiuso in un'occasione. Avrebbe cercato di incendiare una cella e in un'altra di aggredire un detenuto. Dieci giorni fa un alto tentativo di togliersi la vita stringendosi attorno al collo la maglia che indossava per impiccarsi. Ma è caduto sbattendo violentemente la testa ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Vigevano ed è ceduto ieri dopo 11 giorni di agonia. Benfante era stato arrestato l'1 dicembre 2013 a poco più di un mese dagli omicidi commessi il 27 ottobre quando con due proiettili cable libero 38 freddò Emanuele Tattone sfrattato quella stessa estate da una casa popolare malato gravemente e Paolo Simone, pure lui malato, ucciso perché lo stava accompagnando e il 30 ottobre quando toccò a Pasquale, fratello di Emanuele crivellato fuori da una pizzeria con una fucile calibro 12 in zona Quarto Oggiaro. Un uomo di 31 anni, cittadino italiano incensurato, insospettabile è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rò con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti militare agarmagnata nei pressi del parco delle Groane lo hanno fermato a bordo della sua auto e lo hanno trovato in possesso di 150 grammi di marijuana nel suo box i carabinieri hanno poi trovato alcuni trolley e da un borsone sono saltati fuori sette buste di plastica con all'interno oltre 10 chili di droga La pagina sindacale mancano 15.000 insegnanti nelle scuole lombarde la denuncia arriva dalla CGL che specifica che forti carenze si registrano tra gli insegnanti di sostegno che si occupano degli studenti diversamente abili a settembre dovranno essere trovati oltre 37.000 supplenti come ci racconta nel servizio Alberto Carreras Grave carenza di insegnanti in Lombardia secondo i dati del Ministero dell'Istruzione risultano scoperti nella nostra regione ad oggi quasi 15.000 posti di insegnanti di cui 5.600 di sostegno a cui se ne aggiungeranno almeno altri 7.000 sempre di sostegno per garantire la copertura per gli alunni diversamente abili presenti nelle scuole più di 5.500 docenti se ne andranno in pensione delle 58.600 in missioni in ruolo nazionali per settembre annunciate dal ministro Bussetti la metà non verranno effettuate per mancanza di candidati nelle graduatorie un blef di cui il Ministero è consapevole ha fatto sapere in una nota il sindacato scuola della CGL e così se lo scorso anno in Lombardia sono state assegnate 37.000 supplenze è facile prevedere per settembre il superamento di tale numero e in modo abbondante ogni anno denunciamo la carenza e l'incapacità del Ministero di programmare le necessità della scuola attivando percorsi di abilitazione e di specializzazione non solo per tempo hanno sottolineato dalla CGL ma anche con numeri che rispondano alle coperture dei posti liberi e che sono a conoscenza di tutti il governo giallo-verde sta drenando risorse dal capitolo scuola verso azioni politiche di breve durata e prettamente elettorali l'Italia è sempre più fanalino di coda dei paesi europei in tema di investimenti di diplomati e di laureati l'autonomia non solo romperebbe il sistema nazionale di istruzione ha detto la CGL ma creerebbe minuscoli stati nello Stato indebolendo tutta la nazione e aumentando le diseguaglianze per mercoledì 24 luglio le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt CGL, Fit Cisda, Will Trasporti e con distinte proclamazioni anche le segreterie nazionali di UGL, Faisa Cisal e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero nazionale generale dei trasporti di 4 ore che interesserà anche i lavoratori del gruppo ATM le motivazioni pur nelle singole peculiarità possono essere per tutte ricondotte alla creazione di un unico sistema logistico dei trasporti e delle infrastrutture per una mobilità di persone merci rapida ed efficiente per regole chiare e trasparenti che impediscano la concorrenza a ribasso tra le imprese per l'applicazione degli accordi interconfederali che stabiliscano le modalità di misurazione della rappresentanza per garantire meglio il diritto di sciopero contro il preoccupante aumento degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche L'Italia dei servizi pubblici continua a crescere con il Comune di Milano che con un patrimonio netto pro quota di un miliardo e mezzo è l'azionista più ricco del Paese ma il trasporto pubblico locale resta il buco nero del settore è quanto emerge dall'indagine sui servizi pubblici dei maggiori comuni italiani nel quinquennio 2013-2017 dell'area studi Mediobanca nel rapporto non rientra tra le altre AMA per la non disponibilità dei bilanci 2017 nel 2017 le 40 aziende hanno sviluppato globalmente ricavi per 10 miliardi e 400 milioni di euro più 6,5% sul 2013 più 0,7% sul 2016 nel periodo 2013-2017 l'aeroportuale fa registrare la maggiore crescita in aumento anche il settore idrico e l'igiene urbana mentre è in calo il trasporto pubblico locale le 40 società nel quinquennio hanno generato utili cumulati per 2,8 miliardi con ADR in pole position con 827 milioni mentre è in perdita per un miliardo il trasporto pubblico locale sul fronte dei debiti con gli enti locali nell'ultimo quinquennio le società del trasporto pubblico locale dei 10 maggiori comuni italiani hanno assorbito risorse pubbliche per 10,2 miliardi di euro un'interessante mostra del fotografo cinese Liu Bolin in corso di svolgimento al MUDEC di Milano Aristide Malnati ci porta a scoprire le opere di questo artista di fama internazionale una mostra fotografica che va oltre la semplice fotografia al MUDEC in via Tortona 56 a Milano si può visitare fino al 15 settembre l'esposizione di Liu Bolin fotografo e artista cinese di fama internazionale le foto che questo creatore di immagini realizza non sono però semplici istantanee nella foto appare infatti quasi mimetizzato con lo sfondo Bolin stesso che oltre a tutto si sottopone a body painting cioè si pittura corpo e indumenti per essere meglio integrato col soggetto fotografato dietro ogni sua foto c'è lo studio la pittura e soprattutto la performance un lungo processo che dimostra come un'immagine fotografica e artistica sia la sintesi di un lavoro complesso le immagini esposte al MUDEC sono di respiro internazionale da Wall Street alla grande muraglia cinese grande attenzione è poi dedicata alle bellezze artistiche italiane dal Duomo di Milano alla Scala dal Colosseo agli scavi di Pompei l'artista cinese Liu Bolin è conosciuto per le sue performance mimetiche in cui grazie all'aiuto di un accurato body painting riesce a mimetizzarsi con lo sfondo in questo modo l'artista riesce a integrarsi con la realtà che vuole raccontare particolarmente significativa è infine la sezione riservata al dramma dei migranti che arrivano dall'Africa sabato si celebra il cinquantesimo anniversario del primo allunaggio un evento che il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano si prepara a celebrare con diversi eventi nell'area dedicata allo spazio e all'astronomia di via San Vittore vediamo ha toccato ha toccato il suono lunare sono passati 50 anni da quel 20 luglio 1969 erano le 22.17 di una sera vissuta con il fiato in gola davanti alle televisioni aspettando quell'annuncio di Tito Stagno che ha fatto epoca anzi storia vera e Milano mezzo secolo dopo si appresta a ricordare quel momento con una serie di eventi che avranno come fulcro il Museo della Scienza e della Tecnologia dove è conservato l'unico frammento di suolo lunare presente in Italia arrivò nel 73 in verità un dono di Nixon al governo italiano un cimeglio raccolto l'anno prima dal comandante dell'Apollo 17 l'ultima missione dell'uomo sulla Luna sabato sarà il curatore dell'area del museo dedicata allo spazio all'astronomia Luca Reduzzi a raccontare questo ed altri aneddoti durante una speciale visita guidata ma la festa per questi 50 anni è già cominciata giusto ieri sera alle 19 quando sempre in via San Vittore è stato presentato il documentario Moon un viaggio dalla Terra alla Luna e ritorno in compagnia di scienziati e astronauti ma anche storici dell'arte fotografi performers cyborg ma sabato è il giorno clou ovviamente e oltre alla visita guidata della quale abbiamo detto si potrà anche simulare l'allunaggio grazie ai visori di realtà virtuale un anniversario che per chi ha vissuto quell'incredibile 1969 sarà un tuffo nei ricordi per rintracciare facilmente e rivivere un'emozione indimenticabile per chi non c'era l'occasione per provare a mettersi nei panni di genitori o nonni che quella sera uscirono in strada increduli con il naso all'insù le vibrazioni causate dal passaggio della metropolitana gli agenti atmosferici e il naturale accumularsi della polvere sulle vetrate sono tra le cause dell'importante restauro che ha interessato la vetrata 25 del Duomo le cui parti più belle sono attualmente in mostra all'interno della cattedrale come ci racconta Anna Maria Braccini prosegue con grande successo la mostra che in Duomo rende visibili nel retrocorro finalmente ad altezza Duomo sei tra i più belli antelli quattrocenteschi resi nel loro antico splendore appartenenti alla vetrata 25 siamo dovuti intervenire perché era necessario operare sulle parti marmore che avevano presentato durante l'ispezione un grave dissesto e montando il ponteggio sempre cerchiamo di ottimizzarne il costo per cui questa vetrata era una delle più bisognose e abbiamo proceduto anche se il motivo era un altro al di là del preziosi aspetti storico-artistici un particolare interesse rivestono anche le ragioni e le modalità dell'intervento di restauro realizzato attraverso tecniche sia già collaudate che all'avanguardia i dissesti che abbiamo trovato sono sempre quelli che affliggono gli antelli del Duomo quindi principalmente di due nature l'uscita dal piano verticale degli antelli stessi quindi il piano della vetrata si deforma e la compromissione della pellicola pittorica questo è un tema che stiamo studiando con grande dettaglio negli ultimi tempi insieme anche al Politecnico di Milano abbiamo riprodotto tre vetrate finte fatte come quelle originali le abbiamo portate in Bovisa le abbiamo sottoposte a una serie di prove che accelerano rappresentano le sollecitazioni naturali e le accelerano e ci siamo accorti che le vibrazioni non arrivano mai a rompere l'antello perché l'antello con la sua montatura a piombo è un dissipatore di energia quindi si deforma senza rompere i vetri piuttosto pian piano questi possono tendere a staccarsi tutti interi o le vibrazioni a compromettere la pellicola pittorica adesa al vetro e quindi compromettere il colpo d'occhio d'insieme domani venerdì 19 luglio alle ore 21 e 15 il cantautore milanese Foma Fomic presenta a Milano a Villa Pallavecini un concerto tributo a Luigi Cialantini storico difensore del campo basso calcio la squadra che nei primi anni 80 sfiorò la conquista della Serie A Cialantini lo vedete in queste immagini con la partecipazione al giornalista Francesco Andrea Brunale e Marco Davanzo di Zoccher Data ingresso libero a distanza di oltre 30 anni il cantautore milanese Foma Fomic al secolo Giovanni Davanzo renderà omaggio a questo protagonista del calcio italiano che ora fa l'allenatore con un concerto in suo onore a Milano sognando Cialantini accompagnato da Stefano Mora al basso Matteo Grigolina alla chitarra classica e Marina alla duca ai cori Fomic presenterà una selezione di canzoni tratte dal suo repertorio e l'inno di Cialantini un tributo all'ex giocatore rosso-blu scritto e musicato nel 1984 da Marcello Pardieri con la collaborazione di Paolo Margherit era questa l'ultima notizia del nostro notiziario vi ricordo subito dopo la sigla e le previsioni del tempo l'appuntamento con lo Sport il telegiornale condotto da Michele Marchetti e subito dopo Nova Stadium Sprint a seguire il nostro settimanale dei motori griglia di partenza con Gigi Vignando è tutto grazie della cortese attenzione dal TGN e l'augurio di una serena serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti